Bella ragazzi, sono il Drago Ross e bentornati in questo nuovissimo episodio di Unreal Siamo arrivati qui e dobbiamo esplorare queste quattro case, direi di partire da questa qui Siamo cortissimo di munizioni, quindi cerchiamo di non sprecarle possibilmente Se mi apri la porta per favore Ok, questa casa è libera Nessun, ah no, però c'è una porta, come faccio ad arrivare da lì? Non lo so Non lo so, vediamo tanto Una torcia, che anche se non è che l'abbiamo utilizzata granché, però va bene Sti cosi la si può spostare o sono sgabelli? Sgabelli C'è un modo per salire di qua? Forse facendo così, aspetta Questo lo possiamo anche distruggere Eh, munizioni No, non posso entrare, però posso mettere un flare Vai mettere il flare per favore Eh, no, non posso, non c'è neanche un tipo un pulsante o qualcosa Per salire Quanto pare no Vabbè, allora a sto punto, senti Non c'è niente, va bene Vediamo cosa dice Questo libro The minions Of Our gods Are cast To the ground To the Bad hole We are put To the test Our world is Where 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 kicking Workening Non lo so cosa vuol dire It is put For terrible Creature Quattro terribile creature I will play again Tonight Other Or Plea Send Or Messia Va bene Quattro Quattro Terribili creature Qual Quali Una È quella Gigante Ok Questa Ok Abbiamo Ok Tranquilla ragazzi Questa è Sì Ok Siamo in una stalla qui Se non sei Non ti dispace Vediamo cosa c'è Un flare E Munizioni Ok 20 25 chili di Ansi di Coso Tossico Il bio Il bio Fucile bio Ok Possiamo uscire Qui Mi sa che c'è la Sì Dove sei Ecco te Sì è solo che non vedo Un accidente E non ne vedete neanche voi Quindi Flare Dove cacchio Ma dove l'hai sparato Flare Flare Usiamo il flare Così potete vedere qualcosa Ragazzi Flare Dunque Il grande Or havin The great Sunspire Il grande Sunspire Gave to the Gunsland Good lore Has been Corrupted Of the sky Demon Or once Do Know The forest The Terror The sky Demons Are Stronger Than Ever A vision Of death Of Immersed Beast Roaming The land Ok Ora Quindi mi sta dicendo Questo libro dice Che dobbiamo andare A Sunspire Interessante Ok Qua abbiamo un Nalo L'unico L'unico Sopravvissuto Sì però Come Ma no Ma secondo me qua c'è qualcosa Solo che non so come Vi faccio salire da qua Aspetta Ma è strano Allora Allora Non ne posso Sollevarli Quindi non saprei Come fare Se non è Asseglierci Sopra Eh Non posso Non è Non accenia neanche Tipo il doppio salto Quindi Uno stivale No Sì Uno jump boost Cazzo Sì Jump boost Non è vero Ah sì Questo Lo jump boost Che ci permette Di salire Quindi direi Flare Ok Il jump boost È una figata Ragazzi Ok Eh no Cazzo Ma si esaurisce Subito Che cos'è Sta merda Dov'è l'altro Qua Non lo so Si è qua Merda Sbagli No È finito Ho messo lo scudo Vabbè Vaffanculo Va bene Qui abbiamo finito Quindi È ora Di andare Avanti Per la nostra Avventura Abbiamo Recuperato Un attimino Di munizioni E ora È il momento Di andare Su questa Piccola valle In mezzo alle montagne Con due torci Una qua E l'altra Là in fondo E lì vedo Una torre È quello Che penso io Ragazzi Come vedete È notte E C'è Un edificio Sì Vabbè È un'altra Di quelle creature Che Non Non ci piace Abbiamo un Nalo Io darei di salvare Perché È qualcosa di Assolutamente Cosa usiamo? Questo ragazzi È l'unico modo Possiamo fare così Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Tu sei Un cretino Di quegli assurdi Ok Tanto Quella Le con Compulsioni Non è vero Vabbè Sei missile Completamente Sprecati Più stiamo Lontani Ragazzi E meglio È Fidatevi Tanto il Nalo Scappa Vai scappaci Bado io a lui Ok Vediamo se Grandissimo Con La balistica Porco Vabbè Meno male che abbiamo salvato da qua Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Aspetta Eh ma Le Sì No No ragazzi Andiamo via Eh No è un E se Provassimo Aspetta A spararsi A vicenda Tipo All'annacciare I sassi Uno con L'altro Si può No che Non si può Perché Gli Trapassano Eh Vabbè No Ora Ora Qui possiamo Scegliere Se Ammazzarli Tutte e due Oppure Fare Un Un giro Tattico Impressionante Ragazzi Cosa Cosa Scegliete Li Ammazziamo Tutte e due Ma l'altro Sta arrivando Sta tornando Non sta arrivando O facciamo Il giro Tattico Io a questo punto Direi Facciamo il giro Tattico Perché Due È impossibile Però Quanto sono Lenti Eh però Ora Ora io Ora io Faccio Una cosa Aspetto Che arrivano Qua Poi noi Facciamo Un giro Assurdo E lì E andiamo Via Perché È impossibile Due Non è Non è Ci bastano Le Munizioni Anzi Aspetta Forse facino Così In modo Estremamente Abusivo Via 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 Merda No Ecco Vai Via 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 Io 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 Non so Se Entrare Qua Però Qui C'è C'è Un'arma E Elf Il fucile Shock No Però io Voglio Entrare Però se Se Entro Loro Stanno Davanti Alla Porta E Quindi Noi Non Usciremo Più Però Io Voglio Entrare Perché Sicuramente Ci saranno Delle Munizioni O Oggetti Particolari Però Vabbè Se Ci sono Loro Meglio Non 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 è Non è Rischiare Troppo Vedo Cos'è Un cancello No Ragazzi Quelli Quelli Li 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 Saltiamo Lo so È È Una Perdita Perdere Quelle Eccale Ma mi stanno Seguendo Quel cazzo Mi stanno Seguendo Mi Devo Sbrigare Ok Tu Che Leggi Quella Scritta Lì Tiè Merda Ci lancia Cosa Perfetto Eh Non ne so Dov'è Spero che Non arrivi Fino qua Safe Haven Fortus Fortus U Sic Peace Welcome Ok Eh Eh Ma devo Entrare Devo Entrare Però Qualcuno Mi dice Come Si è Un pulsato Qualcosa Non Credo Ehm 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 Ok C'è 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 Questo C'è 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 Ah Forse Se salto Ah Benvenuto Perfetto 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 Più Per Per me Brutta Che Che Per voi Eh Quello Non mi Convince Se Ti sparo Con Con la Pistoletta Guarda Ti Ti Cecchino Oppure Con la Pistoletta Da Da Quando Sono Un figo Allora Io Adesso Non so Se Questo Il prossimo Che Comunque Dovremmo Raggiungere La La Cima Di Di Questa Torre Piano 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 La Ok Ragazzi Vi devo dare Una brutta Notizia Se Più Mi Più Brutta Per me Che Per voi Ragazzi Ci stiamo Avvicinando Alla Al livello Più Pauroso Del gioco Ma Pauroso Non è nel senso Eh Vabbè Chissà Che No Paura Vero e Proprio Eh ragazzi Infatti Non so Se Se Questo Il Livello È Il Prossimo Che Porca Puttana Io C'ho Una Caga Addosso Perché Il Punto È Il Livello Più Pericoloso C'è Pericoloso A parte Pericoloso Perché Rischiamo Di Morire Abusivamente Anche perché È Molto Eh no Qua però Non mi piace Porca Miseria Facciamo Così che Almeno È Istantaneo Ok Eh È È Molto Pa Pa Pauroso Ragazzi È Molto Pa Pauroso Quindi Ve lo dico Già In Anticipo E Che Che Urla Oh No Ragazzi avete visto È Caduto Un Nalo Che Cazzo Vabbè Eh Appunto Eh Questo È Il Livello Anzi È Il Momento In cui Io Odio Questo Gioco Per Questo Motivo Eh Vediamo un po' Cosa dice Suspear Eccoci qua A Sun Spear Siamo Arrivati All'entrata Del Sun Spear Ok Ora che mi ricordo Mi sa che Non è Queste Live Merda No 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 Dammi Vita Ecco Perché C'era C'era La vita Già Già Così Tanto No Ora A A Vedere Così Ragazzi Mi sa Che È Il Prossimo Livello Ecco E Già Questa Musica Ragazzi Vi fa Capire Cosa Cazzo Stiamo Per Per Andare Incontro Eh Però Ragazzi Non mi Ricordo Se Questo Il Prossimo Livello Io Io C'ho Già La caga Addosso Porca Puttana Aspetta Ma Abbiamo preso Tutto Qua Sì Sì Guarda 40.000 Stanze Ma Guarda Qualcosa Di Allucinante Qua Ecco Questa È La zona In cui Odio Di più Di questo Gioco Perché È Qualcosa Di Super Mega Iper Spaventoso Oh Cosa Questo Camera Degli Onori Meno male C'è qualcosa Ok Questo È il nostro Bel Personale Immagino Casa Cazzute Cattivo Guarda Saluta Ciao Un altro Così Ok A parte Qua che C'è Inalo Munizioni Ok Molto Bene Un bel Sospiro Di sollievo Per un Flare E un Kit Medico Una Corazza Grazie Mille Qui Un casino Di libri Messi Così Ok Un fuoco Molto Bene E Nient'altro Ok Ok E E E Quella Ok No Dovremmo Andare Per Liberare Tutti Gli Altri Zoni Però Qui Ragazzi La La Musica Che Pompa È Qualcosa Di Assoluto Eccala Assolutamente Epico No ragazzi Non ne siamo Ancora giunti Nel momento Allora È Nel Livello Dopo Fammi Prendere Il plasma Che Vuole Grazie Se cadi Mi fai un favore Ma grosso Non è vero Sei morto Vabbè Mi hai fatto Eccala La Merda Merda Eccala Ha finito Anche le munizioni Dai vieni Perfetto Ma sono in due In tre In quattro Quanti sono Oh Oh ma stai calmo Porca Merda Non E non ne posso Più Più Riscendere Da qua Ragazzi Sapete Abbiamo fatto Un po' Una Cazzatina Ma vabbè Sì allora Ti Ti lascio qua Vediamo qua Cosa c'è Bella Cisterna Aria Ancora Queste Cazzo Di robe Chi è che spara Salve Aha Ed è caduto Nell'acqua Benissimo Ok qua Per scena No ma è troppo Buio Aspetta Flare Lì è la zona Buia Io non ne voglio andare Nella zona Buia Adesso Quindi Posso Manedarte A fan Bagno Ok Cosa c'è qua Qua tra l'altro Niente Però mi sa che Se Facciamo Alzare Il Il livello Dell'acqua Possiamo Salire su Per quel tubo Ok fammi prendere qua Grazie mille Sali Prima che perdo Ecco La mia apnea Abbiamo di nuovi nemici Ragazzi Eccoti qua Oh No Però Bracca quanto sono brutti Io non vedo Un Una cipa No Porca tuttana vacca Non vedo una cippa No, va bene che c'ho i flare, però Eh, se... Buonanotte al secchio Siamo nella zona buia? Benissimo, guarda Sono molto contento Ah, è quello per... No Ah, ragazzi Se noi non vedete niente Ecco Sappiate che io vedo nero come voi Tipo così Se io vado qua, ragazzi Non si vede niente Non vedo niente neanch'io Quindi Ecco Fate anche senza dire Ma non si vede niente Eh, per forza C'è un buio pesto qua Ok, lì c'è C'è della luce E... Non mi lamento Però qui stiamo che consumi... Ma quanti flare abbiamo? Cazzo Ancora 14 o 13 flare Quindi... Eh Meglio non consumare troppi... Merda Meglio non consumare troppi flare Comunque Merda Ah, eccoti qua No, fammi usare la pistolina Per favore Eccoti Alcuni colpi di pistola Le sei morto Perfetto Munizioni E tocca Adesso andiamo da qua Vediamo un po' cosa riusciamo a trovare Oh Cazzo Merda Devo ricaricare Puttana la vacca Oh, guarda quanti flare Vacca Quanti Benissimo 19 flare Qui abbiamo trovato una Stanza Che non sappiamo cosa sia Ma ragazzi Lo scopriremo Nel prossimo episodio Grazie mille Quindi Per questo Episodio di Unreal È tutto Guarda la vita No, vabbè Questo episodio di Unreal è tutto Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale Iscrivervi se volete tornare giornate sui prossimi episodi Di questo gioco e di altri Mettere un bel pollice Se vi è piaciuto l'episodio Ma guarda anche di commentare Per dare la vostra nei commenti E noi ci risentiamo Con Un nuovo Episodio di Unreal Bella Grazie a tutti